Roberto Martin della Blogger Sport ormai possiamo dire che questo torneo così come abbiamo già detto in precedenza negli anni passati si sta allargando sempre di più ormai i numeri sono davvero molto importanti beh sì oltre ai numeri ecco lo spirito e la partecipazione giusta che notiamo nelle società sono sempre numerose nelle presentazioni nella presenza al campo la domenica nel seguire ed educare i bambini che è la cosa principale e anche nelle iniziative collaterali che facciamo per questo torneo possiamo dire che l'anteprima in Pompamagna in grande stile che ci sarà fra due settimane farà venire davvero l'acquolina in bocca la voglia di iniziare subito questa manifestazione beh sì credo anche perché una presentazione del genere è unica nella sua tipologia non è stata mai fatta quindi la presentazione in Piazza del Popolo con tutti i bambini che sfidano penso che sia da buon viatico soprattutto nella nostra area territoriale grazie a tutti